Musica Benvenuti ragazzi, io sono Alghizus e oggi si riprende con la Nuzlocke Challenge su Pokémon Platino Ok, per la prima volta sto facendo una cosa sensata, cioè usare la Wii a webcam in modo diverso In modo che registri solo l'audio e non il video Quindi se l'audio esce uno schifo, perché questa è una prova Mi spiace tanto, perdonatemi, non uccidetevi Come al solito Comunque, pensavo di spararmi l'isola ferrosa da sola, ma ho detto Perché non farcela assieme? Molto più semplice, molto più comodo Finito l'effetto delle perlente, ne mettiamo un altro Ah, tra benedisi, non l'ho ancora scoperto Scoperto, sì Scoperto che Pokémon ha maisello Cosa che sarebbe molto interessante scoprire Davvero molto interessante Zangus e Scyther Ok Stiamo scherzando Dai, tra tutti i Pokémon che potevano capitare Metapod Guarda, almeno lo uccide forse Ok, ho usato il Dragon Warrior Su Scyther Vai giù, ti prego No, non va neanche giù Free Artigli Free Artigli Wow Oh, sono più veloce io Molto interessante Spero di shottarli Non dovrebbero avere tutta questa grande fase speciale in teoria Ok, Zangus che è quello che ritenevo il più pericoloso è morto Nidorino è solo velino Però adesso Nido King è evidentemente terra velino Anche lui è giù Fantastico Ah, quanto è bello avere surf Quanto è bello avere surf Magmar Fantastico Uno che andrà giù di sicuro E Pelliper invece no Andrà giù di sicuro Perché sto facendo tutto questo? Vi starete chiedendo Perché c'è un Lucario come premio In realtà è un Riolu Ma Ragazzi Cioè È logico che magari Metterli in campo Poi switchare E usare Calmanella magari Ci fa guadagnare tantissimo Ok, questo potrebbe essere un leggero problema Leggerissimo Quindi le mosse di acqua sono potenziate dal potenziamento? Io uso surf Ma fa un bagno a tutti Tanto c'ho un Metapod come compagno di squadra Peggio di così Non potrebbe andare Ok, in teoria Wow So shottare Metapod Forza antica Lui va di forza antica Perché giustamente surf O idropulsare Non sarebbero così efficaci Però non mi fa più di tanto Ok, invece in campo Spiro Potrei provare Con un corpo scontro Su Chiogre Ok, perfetto Begon Ok, aspettavo questo momento Da tantissimo Perché posso fare questo Vedete la comandità di avere un po' come tipo acqua che sappia usare effettivamente una mosse tipo ghiaccio come geloraggio E un po' come tipo acqua Chiogre che ha un attacco speciale veramente altissimo Perfetto Perfetto Vedo il fettore è repellente Ne userei un altro Non la superpozione ma il repellente Ok Ok, va bene Avremo un tingalassio Facciamo un tingalassio Blablabla 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 Ok Direi che il mio discorso era fantastico Non è così? Wheezing Oh cavolo Ragazzi è ritornato colui che sa esplodere Ma sapete che vi dico? Surf e ciao ciao Ok è andato giù Meno male Ciao metabod è stato bello Addirittura brutto colpo Poverino Ok 255 255 Non ho capito se sono salito No è salito l'altro Bagon ok E c'è Due pokemon non esattamente Consoli non hanno mosso tipo acqua Però sapete che vi dico Abbiamo le mosso acqua potenziate Quindi in teoria Un surf dovrebbe fare Metà vita Già più che meno E vengono addirittura Ok va benissimo Va benissimo Giorno di sole Ok Fatemi vedere Ambryon Ok Ambryon Non mi spaventa più di tanto Use lei Un geloraggio Però a questo punto su Cherry Ambryon attaccò rapido Vabbè In quanto tutti gli evi ce l'hanno Più o meno Ok ciao Cherry Crickethot Coleottero Io proverai un geloraggio Su Crickethot So che non gli fa moltissimo Devo tirarlo giù Però perché Quell'uomo ha pazienza Ok perfetto Tirato Uh livello 40 Direi geloraggio Ambryon ha una buona difesa Una buona difesa speciale In teoria Se non ricordo male Ok Forse ok Per un butto colpone Perché a me dovrei cambiare Ambryon Sto vincendo Ok perfetto Ambryon è un nemico esatto Va bene Ok dammi Dammelo 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 Perfetto Doom mi mancava Quando è apparso destino Oh alleluia Mamma mia Come lasciamolo Oh mio dio Come gli do un soprannome così Aiuta Oh mio dio Ok Non potevo non farlo Ok Era dannatamente Un riferimento Tutto troppo Un po' lì Alla mia Sì Yeah Dio Oh Eh San Net Tio Fermi Non riesco A prenderli strumento Non riesco Non riesco Non riesco Non riesco Sì Non ho la minima idea di come si riesca a togliere il FBS Senchio Ok Piovischio Ma perché gli va sempre? Non ha senso questa cosa Maggitudo Direi che Maggitudo Maggitudo 6 Dovrebbe Un livello solo in più For sì Dovrebbe farcela Sì Sì Ce l'ha fatta Lugia Ok Non ricordo se Lugia Conosce Inseguimento Ma dovrebbe conoscere Inseguimento Spero di no Dovrebbe conoscere Garanzia Non mi riconosco Non mi sembra che Sopra usare Inseguimento Ma poi Non avrebbe senso Usare inseguimento Usare inseguimento Tipo aero 8 Ok Eserci di pressione Io switcho Su Milik E inizia Piovere Perfetto Salve guardia Evita Blumi di stato Non sono sbaglio Facciamoci l'oraggio Va bene Sì Va bene Va bene Grafica Volante Non mi fa niente Ok Quanto sono più In alto di Tra parentesi Che difesa speciale ha Lugia Per resistere A un geloraggio Di Mio Ne ha tantissima Sono satinari In più Non pensavo che Lugia Avesse tutta Stata Difesa speciale Ok Ok Tu sei Saturno Non mi ricordo mai Giovia Che sei Saturno Non me ne ricordo Non mi giuro Comunque ragazzi Ho visto che Nel remake Cioè scusate Nel Sti cazzi Nel In sole e luna Torna Camilla Incredibile Quindi Fantastique Non è eruzione Tu guarda che sei Eruzione Ti distruggo No dovresti imparare La tarda In teoria eruzione Lava a sbuffo Ok Può scottarmi Ma non mi fa Relativamente niente Ok Cosa usiamo Cosa usiamo Idropulsa Surf Idropulsa Dovrebbe bastare Non ho voglia Di sprecare PP Per niente Avrà più difesa Speciale più difesa Tecora Corno 1 rimasto Molto interessante Corpo scontro Abbiamo la stessa velocità Per attaccare in questo modo In teoria si Ok Corpo scontro Va a buona fine Ok Ciao ciao 18 Togepi Togepi Come al solito Cambiamo Mettiamo un cigo E dopo Ricambiamo Togepi È già È già volante È un'evoluzione No È il suo Pogamo più forte Togepi Molto interessante La mia cosa che mi spaventa È che abbiamo Metronome E fortunatamente Non è di più folletto Quell'uomo Sono qui Stai sicuro Che ti prendo Lo stesso Grazie Scusate Siamo in una grotta Non c'è la nebbia Ti devo dire Ma che cavolo Io che voglio farlo Salire di livello Però Mamma mia Che tragedia Che è far salire di livello Dragowski Ok 19 Contro P Contro piede Non mi dispiace Al posto del finto attacco Precedentemente imparato Vediamo chi è al prossimo Shedinja Se non erro Shedinja Può essere colpito Solo da mosse Super efficaci Ragazzi Ragazzi Sto facendo passare Le mie osse No Ok Ne ho una In teoria Ne ho una Che è quella di Elecocche Che è Rotolamento Ma no A parte Ho anche garanzia In teoria Sempre di Elecocche Mamma mia Che botta Di Gran Cuno Ragazzi Se non avessi Ho avuto Almeno Una mossa Super efficace La Nuzlocke Sarebbe Non dico Finita Ma Cavolo Ok Abbiamo avuto Almeno Su Jessica Manager Ci facciamo Combattere Riolu E Dragowski Poi Potrei Cambiare Eh Sì Sì Si Potrebbe Fare Ok Vediamo Un po' Chi ci mettono In campo Articuno E Blaziker Ok Stiamo calmi Però Articuno Nel 37 Maledizione Ovviamente Qua Devo Cambiare E mettere Dentro Moby Dick Non serve Una cattiva idea Invece Dragowski Direi che Se facciamo Tononda Su Articuno Non è Neanche Questa La cattiva Intanto Indubbliamo La potenza Del fuoco Scusate Unitiamo Quello Dell'acqua Geloscheggia Mamma mia Non saprei Neanche Che potessi Imparare La geloscheggia Ok Fai poco Porca Ragazzi Oddio Ho cambiato Bersaglio Oddio Quanto Mi ha tolto Una geloscheggia Così Così Cambierei Fai provare Un idropulso Al conto di lui Anche se Sembra Avere Solo Articuno Quello A destra Ok Farei così Cambiere E metterei Le co Shield Per esempio Ci devo Che il ghiaccio Sì E' efficace Ma Le si che ne attacca Rapido Va benissimo Geloscheggia Ancora Ma ho switchato Io stavolta Quanto Me lo Pumpe Ok E questa E' una potenza D'attacco 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 decisamente Infatti 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 vedete Con quanto è Il basto Ah il dolce suono Del super efficace C'è cosa Lo 20 Fantastico E Dragoschi A 41 Certo Mi ha fatto Preoccupare Ok Sembra una cavolata Ma in realtà Non lo è Ancora Che è Altrunno Sono più veloce Le difese di Blaziker Non sono così alte Il tipo fuoco È indebolito E io lo tiro giù Quindi Ci guadagno Solo Ok Entra Kingling Che Psico Io Per sicurezza Avevo lasciato Se non sbaglio Resistenza Riolo Usiamo resistenza Così Io resisto E comunque Sono battaglie Che fanno aumentare Legale Potrei anche Staccare Cingling Infatti È così Staccato Di nuovo Mi è perseguita Quest'uomo Io potrei Proverei Usare una palma In forza Tanto mi sa Che muore Con un attacco Sì È andato Ok Livello 21 Parcigo Non è che ti evolvi No eh Magari No Magari Ti evolvi Non è che ti evolvi Vero No No Svampert E i codoni Però Non male E c'è un fiume di tassabia Che sto per cambiare Moby Dick Moby Dick Fantastico Dragowski Allora io vorrei Io sono obbligato Io sono obbligato Usare l'idrondata Dovrebbe anche potenziarsi Perché mi metto in campo Moby Dick Quindi più vischio Le mosse tipo acqua Hanno più potenza E però Faglia Svampert Usa prevenenza Spreca la sua opportunità Mi dispiace Sabbiotomba Va bene Mi farà più danno Le ferite da sabbiotomba Che non sabbiotomba Del vero Io direi Tipo Dawn E Drago of Furious Suomper Proviamo Tu sei tipo Terra Pura In teoria Giusto? Avrei potuto Usare anche Geloraggio Ma ho così tanti PP di Drupulsar Pensavo a me Sì è molto più difesa Invece avrà difesa E Difesa speciale Rago of Furious Che va Questa ragazzi È un avvenimento epocale Quanto hanno bomba Dovrebbe Farmi cose Giagerate Però mi fa cadere La precisione Già Già non vi colpisco Rapidash Ira Pulse Su Rapidash Ira di Drago Su Swampert Certo che Questi due Hanno una bella squadra Mi piacerebbe avere anche Abbiamo una squadra di questo tipo Cioè insomma Chi avevano per prima? Ipodont Swampert Rapidash Ci manca adesso l'ultimo Che scoprirò Non appena faccio fuori Swampert Nidoquil Sapevo che prima o poi Ci sarebbero fatte vedere Uno dei due Luce con resistenza Però perché siamo furbi E abbiamo Gellorancio Quindi c'è un Nidoquins Tipo Terra Sì Morta Ciao ciao Addio Ok 22 Comandante Blablabla Martes Non mi ricordo il nome dell'altro Era Saturn Effettivamente Saturnus Sandsheu Che bella sembrare di Sandsheu Se non mi dispiace Io switcho su Mobility Probabilmente Ci avete visto Il nuovo Sandsheu Quello di Sole e Luna È Fantastico Perché lui Può imparare L'accelerazione E il Shield Che potrebbe Imparare L'accelerazione Salendo di livello Non la impara Con un MT Misteri della mano Il nuovo Gelloraggio Dovrebbe andare giù In teoria Ha una buona difesa speciale Anche Ok È andato giù lo stesso Gelloraggio Ok Tilo Addio È incredibile Pensare che io sia più veloce Di un po' come il tipo volante Ok che è una prima evoluzione Però è sempre Un po' come il tipo volante Ok Non so se sono salito Di un livello In realtà Sì In realtà sì Forse mi evolvono No Va bene Va bene Va bene Va bene Sì Si chiamava Saturn Ok Non ho catturato Ma è spirito Anza del Fiux Sì Almeno così dicono Va bene Elvis non è in pericolo Non sarebbe male Metagross Da tutti insieme Metagross Metagross Sì 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 No No Non è Sì 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 Sì